Uomini e donne, la scelta di Nicole, Lorenzo Pugnaloni, è palese che sarà Andrea. Chi sarà la scelta finale di Nicole a Uomini e Donne? Mancano poche settimane ormai alla fine di questa fortunata edizione del talk show pomeridiano ideato e condotto da Maria De Filippi che anche quest'anno, sta riscuotendo un grande successo dal punto di vista Auditel. Al centro delle ultime puntate della stagione ci saranno le vicende di Nicole e Luca, per i due tronisti che sono rimasti in gara. Giungerà il momento della fatidica e ormai attessissima scelta finale, che li porterà ad uscire di scena dal cast della trasmissione del pomeriggio di Canale 5. E, in merito alla scelta di Nicole, l'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, sembra avere le idee chiare su cosa succederà. Nel dettaglio, il percorso di Nicole a Uomini e Donne è stato uno dei più chiacchierati e discussi dal pubblico nel corso delle ultime settimane. La tronista è stata messa in discussione da Gianni Sperti, al punto croppinionista ha ipotizzato che la tronista si sarebbe trovata messa d'accordo con il suo pretendente Andrea. Sul percorso da fare in trasmissione nel corso di questi mesi fino ad arrivare alla scelta finale. Accuse che la tronista ha sempre rigettato al mittente, così come il suo pretendente che si è sempre discolpato da queste gravi accuse che gli sono state mosse. Sta di fatto che l'attuale edizione di Uomini e Donne volge ormai al termine e a breve arriverà il momento della fatidica e attesa scelta finale della tronista. Chi riuscirà ad avere la meglio? Quale dei corteggiatori giunti a questo rush finale? Farà breccia nel cuore del giovane tronista? A fare un pronostico e a sbilanciarsi sulla scelta finale di Nicole ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni. L'esperto della trasmissione che tutte le settimane fornisce gli spoiler sul programma Mediaset. A me lei non dispiace, mi piace il suo carattere, ha detto Pugnaloni precisando così di essere un estimatore del percorso fatto da Nicole in questi mesi di permanenza in trasmissione. Sulla scelta palese Sara Andrea, ha aggiunto ancora Pugnaloni che sembra avere le idee molto chiare su quello che succederà nel corso delle prossime registrazioni di Uomini e Donne di questa stagione. Insomma, l'esperto del programma sembra non avere dubbi sul fatto che la tronista coronerà il suo sogno d'amore assieme ad Andrea. Che ad oggi sembra essere il super favorito anche dal pubblico che segue la trasmissione e commenta le varie vicende dei tronisti sui sociali. Grazie a tutti.